Lavorato insieme in questi mesi, come capite il libro me lo sono scritto, non è un libro fatto da un ghostwriter che lancia, il classico politico che lancia un ghostwriter a buttar giù un po' di idee, questo probabilmente è un aggravante e bloccherà le vendite, quindi è scritto in modo non da un professionista, però ci ho messo il cuore e credo che questo sia un elemento al quale tengo di più.